Allora, ritorniamo in Elder Ring, ci troviamo nella Grazia 4 campanili, dove sono presenti ben 4 campanili e 3 gate che dovremmo prendere per vedere un attimo dove ci portano. Iniziamo da questo qua, questa è una zona che non abbiamo ancora visitato a meno, precipizio dell'attesa, vai, allora usciamo la chiave magica. Si attiva due gate e raggiungiamo un'altra destinazione. Cappella dell'attesa. Non ho capito, in che senso? Vabbè, ritorniamo, riprendiamo il gate. Vai. Oh, non togliamo indietro. E andiamo avanti. C'è un boss. Vediamo qui che cosa c'è. Nulla. Ok. Ah, lì iniziamo. Ok. 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 Arrivederci. Noi arriviamo da là. Ed è qui dove abbiamo mostro i primi passi. e se ricordo bene c'era una porta sigillata. E la porta sigillata. Vediamo un po' se si apre adesso quella porta. Dov'era, 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 dov'era. No, qui. Forse sopra. Sì, da quel lato. È aperto adesso. Ok. E abbiamo una cenere. Uh. Un po' una scalinata. Apri l'anterna. Altro. Genere. Antrimino. Scendi giù. Supera la strada incerta e tortuosa. Reclama il trono di Lord Ancestrale. Va bene. Ok. Non c'è nulla qui. Ok. Allora possiamo tornare qui nei quattro campanini. E andiamo a prendere il secondo gate. Vediamo questo, prendiamo. Vieni qua. Cielo notturno incessante. Vai. Usa la chiave spada magica. E raggiungiamo un'altra destinazione. Nocron, città eterna. Ok. Ho lì c'è un tizio. Posso usare questo, sì? Ok. Puttati per di qua. Ok. Apriamoci un attimo. Ma questa è una zona che non avevamo ancora visitato di Nocron. Ah, abbiamo pure un oggettino lì in fondo. Di questa. Oggettino l'arro. Prima questo. Questo. Ah, mi hai sentito. Ah, mi hai sentito. Ah, mi hai sentito. Uh. No. Devevelo evitato, onestamente. Muore. Niente. Mi odio oggetto, però, madonna mia. Che tirchio. Qualcosa giù? No. Cos'è quello? Ah. Mowin. Ok. Lì, invece, abbiamo una zona che abbiamo già visitato. Perfetto. E va bene. Allora, ritorniamo in superficie. E ritorniamo nuovamente ai quattro campanili. E ci è rimasto da visitare l'ultimo gate. Andiamo. Terre friabili. Vediamo dove sono queste terre friabili. Ah, farmazula. Cioè. Si può arrivare a farmazula direttamente da là? Ma veramente? Ma che figata. Ehm... Vediamo se c'è qualcosa da fare. Qui non c'è nulla. C'è questa piattaforma. Vai. Falta qui. Da qua. Olè. Andiamo qui. E qui poi abbiamo due tizi. Ahia. Mori. Ehm... Ma non c'è niente. Quindi arrivo qui. Non c'è niente da fare. Ah no. Da qua si può scendere ancora. Aspetta un attimo però. Andiamo prima dall'altro lato. Può scendere anche da qua? No. Ok. Andiamo verso nord. Ascoltiamo. Talismano. Del drago per l'aceo. E mi sa che adesso. Veramente non possiamo andare più da nessuna parte. Quella è la fornace. Dove c'è il gigante. Via farmazula. E vabbè. E niente. Quindi finita l'esplorazione dei quattro campanili. Perfetto. Video breve. E ci si vede nel prossimo episodio.